ho sentito guido bertolaso che mi ha detto che in lombardia mancano i vaccini così matteo salvini si è espresso sulla campagna di vaccinazione che non decolla per motivi non dipendenti dalla regione altro che chiudere palestre e ristoranti se non arriva il prodotto promesso fra sei mesi siamo punto e a capo ha avvisato il segretario della lega il quale poi ha aggiunto che mi risulta che a bruxelles da settimane si afferma l'autorizzazione dei vaccini se qualcuno sta perdendo tempo sulla pelle degli italiani sarebbe molto grave se lo stanno facendo per motivi economici o geopolitici sarebbe di estrema gravità grazie a tutti